Famigros, il club per famiglie della Migros. Per futuri genitori e famiglie, con bambini di tutta l'età. Come membri del club troverete tanti utili consigli, informazioni sulla vita in famiglia e offerte esclusive. Registratevi subito e scoprirete le attività che fanno proprio per voi e i vostri bambini. I contenuti di Famigros si adattano alla vostra famiglia. Siete intraprendenti? Famigros ha le idee migliori per il tempo libero con la vostra famiglia. Avete voglia di qualcosa di diverso? Qui troverete favolose ricette accompagnate da utili accorgimenti per adattarle alle esigenze del vostro bimbo. Vi piace essere informati? Non appena avrete effettuato il login, vedrete tutti i contenuti rilevanti per voi e la vostra famiglia. E c'è di più! Approfittate puntualmente di allettanti offerte per il tempo libero e le vacanze, ma anche di speciali vantaggi cumulus su prodotti della Migros, per voi costantemente rinnovati e ampliati. Non perdetevi neanche una virgola! Grazie alla nostra newsletter, che vi tiene regolarmente informati sulle ultime novità e offerte. Registratevi subito! Riceverete a casa la tessera Famigros per usufruire di tutti i vantaggi esclusivi. Vi aspettiamo su famigros.ch